La tua amica banca ti ha tradito, è la frase scritta su centinaia di striscioni comparsi nella notte davanti alle filiali di tutta Italia degli istituti di credito sottratti al fallimento dal salva banche. Annodate ci sono delle cravate che simboleggiano il cappio messo al collo dei risparmiatori dagli usurai in doppio petto a rivendicare l'azione e Casa Pound Italia. Basta bruciare i risparmi degli italiani in finanza tossica dicono gli esponenti, quello che è successo sta a dimostrare nella maniera più tragica il fallimento del sistema completamente liberalizzato che avrebbe dovuto risollevare le sorti dell'economia e che invece ha portato solo a danni e truffe. E i truffati, neanche a dirlo, sono i più deboli, aggiungono, non i grossi imprenditori in fular, non gli speculatori o i mafiosi, ma famiglie qualunque che credono ancora nell'Italia, nelle sue banche e nelle sue imprese hanno consegnato i risparmi di una vita nelle mani della banda Bassotti. Famiglie che il governo ha scelto di abbandonare a loro stesse, salvo poi di fronte alla tragedia di Civitavecchia dove un pensionato ha deciso di togliersi la vita, avere un ripensamento e approvare quell'intervento solidale, quando non ha potuto più farne a meno. L'Italia non ha bisogno della solidarietà o dell'elemosina di un governo sceso in campo solo per salvare gli usurai. Rimettiamo il sistema bancario sotto il controllo dello Stato, conclude Casapound Italia. Economia reale sì, obbligazioni e derivati no.